Si estraggono petrolio, se tu conta che due barra tre allarmi a settimana ci stanno sempre. Cioè suonano allarme, allora tutti quanti fuori, evacuazione dello stabilimento, tutti fuori, poi parte la spada speciale che va a vedere un attimo, e loro fanno praticamente tutti i sensori per tutto l'impianto. Ma cosa vuol dire un allarme? Allarme H2S, idrogeno sofforato, che è uno dei gas più letali che ci stanno. E l'allarme scatta quando esce in limiti di scuola. Si, perciò, eh si. Contra che tendo giriamo tutti con rilevatore, ogni singola persona che gira dentro ha rilevatore e maschera. Che la tengono... Maschera si viene qui sempre da una parte, è pronto, che se suona il rilevatore metti subito la maschera e vai. Che la tengono... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.